Il primo è il capitano Kozulic, in un lieto corteo nautico vanno a festeggiare una cifra, vi diremmo quale. La cerimonia si svolge allo scalo 65, parla il prefetto della città, ascoltano i generali Frey e Hogg e Mr. King. Risponde il professor Tauchner a nome dell'Austria. Leggiamo un itinerario in cui Trieste fa da ponte verso il cuore dell'Europa. Il traffico del porto significa lavoro e vita per i portuali di Trieste, l'arrivo del materiale significa lavoro e vita per i paesi a cui è diretto, in questo caso l'Austria. 4 milioni di tonnellate è la cifra che si festeggia, nutrimento per uomini, materie prime per le officine e ciò che serve a rifare i villaggi e le città demolite. Il ministro Galloway, capo della missione ECA a Trieste saluta il macchinista che porterà in Austria il breve treno anch'esso simbolico. Noi italiani in questa cerimonia vediamo anche un altro simbolo, l'utilità di Trieste come grande arteria per il rinsanguamento delle nazioni continentali.